good morning si infatti sono le 11 praticamente meno qualche minuto due minuti qui mister master maestro o semplicemente oh semplicemente david lynch it's february 5 2022 and it's a sudden it enables a cloudy morning really cloudy morning very still right now 59 fire night around 15 celsius and this means that per me non è quella giornata veramente 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 fredda con questi giorni in questo periodo infatti credo comunque le altre persone come sempre lo sentano comunque freddo però come sempre invito anche sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto per cercare di capire quali sono le due pratiche che utilizzo non per vincerlo perché è impossibile ma quantomeno di combatterlo il freddo e come vedete la mitica una mitica maietta a mezze maniche quasi sempre la prova di questo per quanto riguarda il video sui pensieri come sempre da inizio anno faccio separato da questo quindi eventualmente occhio al video successivo se vi interessa anyway as you just see from the window it seems that today sicuro noi non avremo those beautiful blue skies and golden sunshine ma visto come tutti insomma il cielo è totalmente coperto dalle nuvole i think that the temperature potrebbe abbassarsi di qualche grado ma vedremo ad ogni modo non posso dire la frase cult perché non credo proprio che le cose possono cambiare ma comunque non ci possiamo lamentare finito perché devo dire che gennaio è stato un mese quasi tutto il mese è stato con il sole con con those beautiful blue skies and golden sunshine quindi comunque va bene così per me in generale l'importante è sempre che non piova e che comunque si mantenga così say the this so from the mythical window with the color of the curtain diciamo l'inquadratura rende la tenda un po' più bella ma comunque non più di tanto and it's green roller shooter and finally from my mythical keyboard yamadi gx 640 ipg 625 e 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